Un tema a me caro, continuo ad essere insultato perché non sono nato in Abruzzo e poi fanno la retorica dei buoni sentimenti sui migranti, i migranti, i migranti, accogliete i migranti. Io sono orgoglioso, so che il mio avversario è giustamente orgoglioso delle origini contadine della sua famiglia e fa bene, fa bene a onorare suo padre e sua madre e ad essere orgoglioso delle opportunità che gli hanno dato, ma mio padre e mia madre erano ancora più poveri. Quelle opportunità qui in Abruzzo non le hanno potute coltivare per crescere quattro figli e farli studiare e farli diventare, permettetemi la presunzione, dei figli di successo che hanno fatto parlare le loro città, le loro regioni che sono arrivati ai vertici delle istituzioni nazionali ed europee. Quei genitori hanno sgobbato, hanno sofferto la distanza e l'abbandono, hanno sofferto 40 anni di vita lontano dalla loro terra e non può diventare un reato se il loro figlio vuole tornare nella terra delle sue origini. Sono abruzzese da sette generazioni. Quanti lo possono dire di quelli che mi insultano?